Si è conclusa la settimana biblica per la diocesi Lucera Troia. La Sacra Scrittura deve occupare il posto centrale nella vita dei credenti e nella pastorale della Chiesa. Alle scritture sante, infatti, spetta il primato metodologico, sia spirituale che teologico-pastorale, perché dalla parola di Dio parte, ritorna e riparte il dipanarsi della vita credente di ciascun cristiano e delle varie comunità ecclesiali. Lo ha sottolineato Monsignor Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera Troia, presentando la settimana biblica di quest'anno 2018 sulla tua parola getterò le reti, dedicata all'opera lucana Vangelo e Atti in previsione dell'approccio evangelico previsto per il prossimo anno liturgico. Un'interessante riflessione è stata fatta da Monsignor Antonio Pitta, che ha parlato delle considerazioni nel Vangelo di Luca sulla dualità tra fede e città, sottolineando l'importanza di partire proprio da questa per l'evangelizzazione, senza tralasciare l'importanza della casa, della famiglia, della donna.